Ben tornati cari telespettatori di FanoTV, oggi è venerdì 2 aprile 2021, questa è la rassegna stampa occhio giornali, commento la stampa del giorno, lo vedremo tra poco i giornali che abbiamo selezionato per questa mattina per voi, adesso però ricordiamo a tutti che oggi è venerdì santo, oggi abbiamo degli appuntamenti che vi dirò alla fine di questa diretta e poi che il sole è sorto alle 6.49, tramonterà alle 19.40 e adesso il tempo. Cambia tutto ragazzi, cambia tutto perché tornerà l'inverno, possiamo dire così, intanto sabato la svolta, con temporali rischio addirittura di grandine, insomma un calo termico, a Pasqua avremo questo crollo delle temperature, pioggia e neve su alcune regioni, andiamo a vedere non specifico la giornata di oggi però, venerdì che ancora si presenterà bella, bella per quanto riguarda la mattinata, vedete, il pomeriggio lo stesso, tutto molto bello, soleggiato, quasi estivo, mentre questa è la giornata di domani, sabato, il peggioramento arriva nel pomeriggio con dei temporali anche sulla costa, pioggia sull'Anconetano, un po' su tutta la regione, anche la sera peggiora, vedete, con piogge abbondanti sull'Ascolano, su tutta la catena appenninica, la giornata di Pasqua invece sarà abbastanza coperta al mattino ma con miglioramento e schiarite nel corso del pomeriggio. Lunedì, vediamo lunedì 5, lunedì 5 invece sarà bello ancora, mentre nella giornata di martedì, ecco, torna il maltempo, tornano le piogge, addirittura c'è un altro sito, questo è Trebimeteo, quello con cui abbiamo una collaborazione, ma ci sono altri siti che addirittura per martedì a Fano nel pomeriggio mettono addirittura la neve, senza accumuli ma mettono la neve, quindi per dirvi come sarà il tempo della prossima settimana. Allora, questa mattina partiamo da una notizia che non c'entra niente con il Covid, ma da una pagina che è quella del Carlino di Ancona, dove si parla in primo piano di una persona, di una ragazza, una ragazza della quale abbiamo parlato in rassegna stampa, l'abbiamo seguita passo passo, ovvero quella ragazza, ricorderete, che era finita in ospedale in gravissime condizioni, ormai era quasi spacciata, perché inizialmente si diceva aveva mangiato del sushi, ricordate, poi si è scoperto che il sushi non c'entrava niente e adesso guardate qui la fotografia di oggi nel Carlino di Ancona. Miracolata Torrette, questo è il titolo, era arrivata in gravi condizioni da Foligno dopo aver mangiato sushi che accelerò lo shock, Caltrina, questo è il nome, lei adesso ringrazia tutti, dice grazie ai medici che mi hanno salvata, il professor Vivarelli, vicenda, colui che l'ha operata, dice una vicenda che mi ha toccato, anche perché poteva essere, racconterà al giornale, poteva essere mia figlia, eccola qua. La vedremo nelle pagine interne. Poi c'è invece l'altra notizia sulla quale anche ieri, insomma mi sono anche un po' arrabbiato. I numeri, numeri che avevano fatto saltare le marche improvvisamente in una situazione di grave pericolo perché con quei numeri lì c'era poco da sperare nel passaggio da zona rossa a zona arancione. Un numero eccessivo di contagi, ieri vi abbiamo detto, 800 e passa contagi. In realtà oggi si scopre che dalla regione si erano sbagliati. Non erano 800 e passa contagi, erano un po' di meno, sempre tanti, 600 e qualche cosa, 150 in meno, ma si erano sbagliati. Avevano caricato dei numeri in più, soprattutto sulla provincia di Macerata. Avevano caricato dei numeri, dei risultati dei sierologici che non c'entravano niente con i tamponi e quindi ha sfalzato tutto quanto. La notizia di oggi però è che c'è un focolaio all'ospedale di Urbino, spuntano positivi nel reparto no covid di medicina e tutte queste pazienti, sono sette in tutto, sono stati trasferiti al San Salvatore di Pesero. Ma la fotonotizia del Carlino di oggi è che è sulla conta dei vaccini. I politici tifosi e la guerra delle classifiche sulle dosi. Poi la storia, le storie che vedremo tra poco. Un pesarese che è stato trasportato a Roma in elicottero sarà curato con un polmone meccanico. Poi un lutto che colpisce Fano, Fano che piange la morte del notaio Colangeli, anche lui vittima del virus. Sette in tutti i decessi in provincia, si rialzano i numeri dunque del dolore e poi come vedete il picco dei contagi, un pasticcio nei calcoli. E adesso invece il Corriere Adriatico. Rebus vaccini in farmacia, spazi, mobilità e formazione, le tre grandi incognite. L'accordo c'è ma la regione è in ritardo. Il nuovo allarme, i corsi già frequentati per l'abilitazione potrebbero non essere quelli giusti. Intanto a centropagina stipulato l'accordo, Pentathlon a Pesaro sarà la VL il nuovo gestore. Poi sempre da Urbino, falsi agenti della Sisal truffano una ricevitoria, guidano la titolare ad aggiornare il sistema, salta tutto, poi un ammanco di 28 mila euro. A Fano, da Fano per la variante di Gimarra, nuovo tracciato più economico. Allora andiamo a vedere la storia, la storia di questa ragazza, 21 anni, curata in modo davvero straordinario dall'equip dei medici del Torrette di Ancona, guidati da Marco Vivarelli. Il titolo, poteva essere mia figlia, dice lui, è stata durissima, donate ai defunti, gli organi non servono più. È l'invito, l'appello accorato appunto di Marco Vivarelli, direttore dei trapianti di Torrette. Se non ce l'avessimo fatta, racconta lui, in me sarebbe rimasta una cicatrice. Lo ha intervistato Pierfrancesco Curzi, del resto del Carlino, e dice, in circa 30 anni di carriera, il professor Marco Vivarelli, direttore della chirurgia epatobiliare e dei trapianti dell'ospedale di Torrette, di organi ne ha impiantati a centinaia. La sua attenzione è sempre al massimo. Eppure ci sono dei casi che vanno al di sopra della tecnica di routine e coinvolgono anche la sfera delle emozioni. E questo caso è uno di quei casi appunto in cui il dottore dice, se non ce l'avessimo fatta a salvarle la vita, non le nascondo che la cosa avrebbe lasciato una cicatrice dura da rimarginare. Ma attenzione, dice, a proposito delle, lui che opera trapianti, dice una cosa importante. Dopo tanti anni di esperienza, dice il dottore, rimango basito di fronte al diniego alla donazione. Ai defunti quegli organi non servono più, sono inutili e si decompongono, deperiscono, senza costrutto. Una volta morta una persona finisce nella bara e di quel taglio sul petto non resta traccia. La traccia della vita invece io ce l'ho qui di fianco a me, riferendosi ovviamente a questa ragazza. E quindi conta la sostanza, non l'ottusità. Torniamo a Caltrina, chiede Curzi, che vita le si prospetta davanti dopo questo intervento? E il medico risponde, a parte il fastidio di dover assumere una pillola al giorno senza effetti collaterali, potrà fare di tutto, anche una gravidanza e così via. Il nuovo picco, e qui apriamo la pagina della pandemia, la dividiamo in due, la pagina della pandemia. Vediamo l'analisi dei dati, velocemente, si prospetta probabilmente, oggi è venerdì, quindi per le Marche si prospetta il ritorno all'arancione o da dopo Pasquetta oppure dal 12 di aprile. Ma comunque sia, vedremo i dati e poi alcune storie legate al Covid. Allora, il nuovo picco, scusate un errore di calcolo. Il bilancio drammatico di mercoledì, che aveva allarmato anche il governatore Acquaroli, ha mostrato delle anomalie e, dice lui, sono stati caricati dati in eccesso. Il dato dei positivi riscontrati, ha scritto il governatore, tornano quindi in linea con quelli degli ultimi giorni e ci dice che stanno questi dati, che sta continuando la decrescita del contagio e che le misure messe in atto stanno producendo i loro effetti. Raccomando, dice ancora Acquaroli, sempre di tenere alta l'attenzione perché le nostre strutture ospedaliere sono ancora sotto pressione. Domani, cioè oggi, sapremo con ufficialità che colore saranno le Marche dopo Pasquetta. Siamo sotto ai 250 contagi su 100.000 abitanti e se questo è il dato che verrà usato nella valutazione del Ministero, come indicato dal nuovo decreto del Governo, allora le Marche potrebbero tornare in zona arancione. Aspettiamo però le decisioni della cabina di regia. Di questo parla anche il Corriere Adriatico di oggi. Curve da arancione, ma l'ultima parola spetta al Ministero. Oggi la decisione sui nuovi colori delle regioni può pesare la regola della doppia settimana, corretta l'anomalia del picco di mercoledì. L'incidenza scende a 233, quindi questo dato che ecco ci mancava, 233 sotto la soglia richiesta. Mentre l'indice di trasmissione del contagio, quel famoso RT, è sceso da 1,15 a 1,4. L'uscita dal lockdown dunque o da martedì prossimo, quindi dopo Pasquetta, oppure da lunedì 12 aprile. Le storie invece, come dicevamo, le storie. La prima che vi raccontiamo questa mattina è quella che riguarda un 59enne che era arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso di Fano il 12 di marzo. È un 59enne di Mondolfo. Mercoledì l'eliambulanza Pegaso si è alzata in volo da Pesero e lo ha portato al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, dove si trova appunto questo apparecchio per l'ossigenazione extracomporia che è l'ECMO. Questo 59enne, dopo essere passato per l'ospedale per il pronto soccorso di Fano, è stato subito trasferito nel reparto di rianimazione del San Salvatore. Aveva una polmonite bilaterale da Covid che gli aveva compromesso la funzionalità degli organi al 70%. Ora anche la saturazione poi era bassa a livelli insomma critici. All'inizio lo hanno curato con tutte le cose del caso. Pareva che ci fosse un miglioramento, poi questo miglioramento si è fermato e a quel punto è stato reso necessario utilizzare questa macchina che praticamente respira al posto del paziente. Una macchina che serve per fermare i polmoni e usare appunto questa respirazione extracorporea. Qui chiaramente l'articolo di Elisabetta Rossi questa mattina spiega nello specifico come avviene, cosa succede, cosa non succede. Quello che è sicuro è che questa macchina non è che può essere usata per tanto tempo, al massimo un mese, giorno più giorno meno. Mentre sotto il primario Michele Tempesta fa il punto sulla situazione in ospedale a Pesaro e soprattutto nelle terapie intensive dove dice è cambiato tutto. Ora 30 pazienti su 36 sono pesaresi. Qualcuno dirà perché prima? Prima, come dicevamo all'inizio, erano soprattutto persone che arrivavano da Ancona oppure da Macerata. Adesso invece, dice il primario, i pazienti gravi arrivano quasi tutti dalla provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta di persone che hanno preso il Covid 15-20 giorni fa. Sono tutti colpiti dalla variante inglese, che ormai è dominante, sono sempre più giovani tra i 50 e i 65 anni. Direi, dice ancora, alla domanda di Elisabetta Rossi, state notando qualche flessione nel numero dei ricoverati in questi giorni dopo quasi un mese di zona rossa, la domanda? La risposta è direi che il livello è sempre lo stesso. È vero che ci sono dimissioni ogni giorno, ma ad esempio per due che sono usciti ieri, altri due ne arrivano oggi. Mi sembra che la zona rossa non sia così rossa. Vedo tanta gente girare. È anche vero che a distanza di un anno certe categorie stanno soffrendo troppo. Io ho uno stipendio fisso, dice Tempesta, ce l'ho tutti i mesi, ma le partite IVA no. Quali sono le armi migliori per sconfiggere il Covid? Indovinate un po' qual è la risposta. La stessa che ci diciamo da un anno a questa parte. Eccola qua. Anzi, leggetela voi, io sto zitto, così almeno forse entra meglio. Ecco la risposta. E' morto il notaio Angelo Colangeli. Il Covid se l'è portato via a 80 anni. Era nato a Roma, svolgeva la professione dal 1981. Prima a Cagli e subito dopo il trasferimento a Fano, dove aveva lo studio prima di spostarsi nella zona industriale davanti alla caserma Paolini. Ora Angelo Colangeli abitava in via 4 Novembre a Fano. I funerali si svolgeranno, si terranno sabato alle ore 15, alle 3 del pomeriggio, sabato, nella chiesa di San Cristoforo. Ora la situazione di questa famiglia, scrive il giornale, già colpita appunto dalla perdita di Angelo, è in questo momento molto complicata perché anche la moglie Anna Maria è stata contagiata e anche il figlio Dario è in quarantena. E la notizia della morte di Angelo Colangeli ha destato commozione non solo negli ambienti notarali. Era molto amico anche del collega Cichetelli, ma anche in città dove era molto conosciuto e stimato. Sempre da Fano la storia invece adesso di un volto certamente molto conosciuto, noto anche perché svolge una professione, l'agente di polizia locale che da moltissimi anni. Parliamo di Alessandro Di Quirico, lo vedete nella fotografia. Un'altra vittoria per lui, ha battuto il Covid, lo storico dirigente della polizia locale, dice sono uscito dall'ospedale dopo 54 giorni di rianimazione e un mese di riabilitazione. E poi dice sono grato ai sanitari. La storia la racconta Anna Marchetti questa mattina sul giornale e dopo 38 anni di servizio come dirigente è andato in pensione Alessandro Di Quirico. Sono uscito dall'ospedale venerdì scorso, racconta Alessandro dopo 54 giorni di rianimazione e un mese di riabilitazione. Sono grato al primario della rianimazione di Marche Nord, Michele Tempesta, che insieme al suo staff mi ha letteralmente salvato la vita. E poi parla insomma della sua battaglia che è stata durissima contro il Covid, dal ricovero in terapia intensiva, dai lunghi giorni trascorsi in ospedale. C'è un ringraziamento che arriva anche da parte del sindaco di Fano Massimo Seri, che ha voluto salutare l'uscita dal lavoro di Di Quirico. Un meritatissimo, dice lui, e importante traguardo, raggiunto dopo tanti anni di servizio, prestato a favore dell'ente, attività che hai svolto con impegno e professionalità. E adesso andiamo a vedere se c'è un'altra notizia sotto. No, beh sì, è interessante anche se non riguarda il Covid, però per i fanesi sicuramente un machilage in vista per via Garibaldi, sono previsti nuovi arredi, è una risposta alle tante richieste, saranno installate nuove panchine, sempre in via Garibaldi, siamo nel centro storico, fioriere, cestini per il conferimento dei rifiuti e alcuni porta bicicletta sia singoli sia rastrelliera per il parcheggio appunto delle biciclette. Per far bella la città è necessario che ognuno di noi abbia cura, ne abbia cura, insomma, presto comunque partiranno questi lavori. Ora, tornando invece al discorso della pandemia, ma allargando un po' e tornando ai problemi che avvolgono tutti noi, quindi l'Italia anche, a pagina 3 del resto del Carlino si parla di tasse di fisco. Beh, insomma, fa piacere leggere che per il fisco la pandemia non esiste. Le tasse continuano come prima. Confcommercio, dice, la taria è stata aumentata in 10 anni dell'80%, Confedilizia invece chiede di poter scalare gli affitti. Tra mille difficoltà, artigiani e aziende devono far fronte a scadenze fiscali sempre più onerose. Gli sconti fiscali e taglia le bollette non possono bastare. Il calo dei consumi è stato di 130 miliardi. Poi tra IRPE, FIMU e IRAP, attività e autonomi pagano 28 miliardi. Serve un lockdown delle imposte. Lockdown delle imposte che ovviamente non arriverà mai. Pronti a bloccare l'autostrada, l'ira dei commercianti estremati, artigiani, partite IVA, i ristoratori assediano l'autogrill tra Bologna e Filenze. La rabbia dilaga in tutta Italia. La polizia evita lo stop dell'autosole. Non abbiamo più niente da perdere. Basta elemosina. Queste sono le immagini, sono le fotografie appunto che riguardano questa protesta. L'ex grillino guida la protesta. Qui salta tutto. Anche a Bari. A Bari la statale 16 interrotta per tre ore dagli ambulanti. Cortei sulle strade anche a Reggio Emilia. Ora, i controlli. Ci stiamo avvicinando, siamo ormai nel fine settimana, ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Nella provincia di Peso Urbino scatteranno nuovi controlli. 250 agenti controlleranno, saranno lungo le strade. Il fine settimana pasquale sarà blindato, con posti di blocco ovunque. Si può andare a visitare i parenti al massimo in due persone per auto. Quindi, insomma, per non passare una Pasqua amara e quindi vedersi a Pioppati una multa anche di un certo tipo, perché sono multe comunque di centinaia e centinaia di euro. Allora, è bene sapere che in questo fine settimana ci saranno 250 operatori delle Forze dell'Ordine impegnate per il controllo sul rispetto delle misure di contenimento del contagio. Uno spiegamento di uomini deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirato in particolare alle zone mare della città costiere, a parchi e centri storici, dal richiamo turistico. E questo, dunque, saranno intensificati. Il coinvolgimento sono la polizia stradale, polizie locali, i controlli sulle principali arterie stradali della provincia. Insomma, tutte le forze di polizia saranno impegnate in tutta la provincia di Pesaro e Urbino, che serviranno appunto per controllare gli spostamenti delle persone. L'estate si gioca d'anticipo, gli stabilimenti balneari aperti dal primo di maggio. Questo è un articolo che appare a pagina 6 del Corriere Adriatico di oggi. Un incontro con gli operatori, la Regione accelera per dare ossigeno al settore, confermati i 10 metri quadrati di spazio per ombrellone. E poi ci sono altre misure, che sono quelle che il Corriere pubblica in questa sintesi, in questo grafico che vedete sul teleschermo. Resta il metro di distanziamento interpersonale sotto l'ombrellone, esclusi famiglie e conviventi. Quindi un metro è la distanza tra il lettino e l'ombrellone, un metro e mezzo invece era nei protocolli del 2020. Quindi siamo tornati a un metro, anche perché abbiamo visto che praticamente l'estate il virus dovrebbe essere, come a dirlo, alla zangrillo clinicamente morto anche quest'anno. Quindi potrebbe essere, insomma, anche sufficiente un metro di distanza tra un ombrellone e l'altro. Poi ci sarà però un divieto, ecco l'unico forse divieto, il divieto di accedere in spiaggia da mezzanotte alle 6 del mattino nelle aree in concessione di Magnale, cioè dove c'è un concessionario di spiaggia. Chiaro che uno, se va, a meno che non c'è il coprifuoco, ma credo che finirà, nelle spiagge libere ci può andare. Ora invece dalla pagina di Fano del resto del Carlino si parla invece dell'Interquartieri, quella strada che dovrebbe passare, dovrebbe costruirsi in mezzo alle campagne e che tanto fa arrabbiare i proprietari delle case e delle ville che stanno appunto in queste belle vallate, in queste belle colline. Vedete questo è il tracciato, insomma. Allora sull'Interquartieri da 21 milioni e 500 mila euro, il tracciato dell'ultimo tratto dalla trave alla Statale 16, scompare una galleria e la strada passerà a fianco della pista Zengarini. È la mappa dell'ultimo tratto degli Interquartieri che va dalla rotatoria di Via Aldomoro fino alla Statale 16. In rosso, scusate, il vecchio tracciato, quello del Comune, con la galleria prevista. In azzurro invece il nuovo percorso. Ecco, forse si riesce a intravedere bene, a vedere bene anche da casa. E intanto sulla pagina invece di Fano, anche qui del Corriere, la variante di Gimarra, nuovo itinerario per rientrare nei 20 milioni che sono disponibili e che non dobbiamo perdere in qualche modo, si elimina la galleria aggirando la collina di Gimarra, la strada più larga con pista ciclabile annessa. Mentre qui sotto, ecco la fotografia, sempre bella, è sempre bello vedere queste fotografie, affascinante soprattutto vedere queste fotografie, che ritraggono un vecchio selciato dell'antica strada consolare nella zona artigianale di Rosciano, la consolare Flaminia. Scavo per l'acquedotto, spunta la consolare Flaminia, interviene la sovrintendenza, Rosciano per i resti romani, l'antica cura della viabilità. Addio, e qui permettetemi un salto nella pagina di Re Canati del resto del carriero di questa mattina, perché? Perché c'è la morte di un sacerdote, ma non era soltanto un sacerdote, era anche il fondatore e un pioniere, anzi, delle radio e televisioni marchigiane, in particolare di Radio Sound e di TV RS. Sapeva ascoltare le persone, era un prete schietto e sincero. E' morto Don Dino Issini, parroco dal 2 febbraio del 1969 della parrocchia Re Canatesi di Cristo Redentore. Ma Don Dino Issini, che ha fatto sicuramente tanto bene per i suoi parrocchiani, ragazzi, eccetera, lo vogliamo ricordare appunto perché nel 1977 ha fondato l'emittente radiofonica Radio Sound e nel 1979, quindi siamo veramente agli albori, pensate che Telefano più o meno, Telefano era il 1973, 75 mi pare che chiuse, ecco, quindi siamo alle primissime televisioni private, ecco. E Don Issini è ora uno di quei preti ai quali piaceva la comunicazione, la comunicazione con i mezzi appunto radiofonici e televisivi. E quindi lo salutiamo e lo ringraziamo anche per questo. A Urbino invece, qui siamo a pagina 19 del Carlino, sempre di Pesero, siamo della Sisal, si sono presentati così perlomeno, poi però hanno raggirato un tabaccaio di 27 mila euro, una banda, una banda specializzata che ha fatto versare quella somma, cioè 27 mila euro, ad un tabaccaio di Petriano per una simulazione, invece il bonifico era reale. È successo qualche giorno fa alla periferia di Urbino e sono dei truffatori seriali che hanno un copione ben preciso che funziona alla perfezione, tanto che sembra essere verissimo, tutto quello che viene proposto di fare succede, e però poi chi ci casca, chi lo fa, chi è il protagonista come questo tabaccaio, poi alla fine deve pagare le conseguenze. Le conseguenze in questo caso sono 27 mila euro di ammanco. Andiamo a Senigallia invece, perché a Senigallia chiaramente anche oggi si parla di quella terribile vicenda che ha visto protagonisti padre e figlio, un padre che disperato spara un colpo di pistola alla gola al figlio e lo uccide. Loris Pasquini, il padre, è stato ascoltato dal GIP per la convalida dell'arresto. Il padre di Alfredo ha ribadito i maltrattamenti subiti. Loris Pasquini aveva denunciato il figlio Alfredo per maltrattamenti già due volte prima di ucciderlo lunedì scorso con un colpo di pistola. Una denuncia l'aveva fatta nel 2013 e un'altra nel 2015, ma poi le aveva ritirate, perché lui dice il padre era pur sempre mio figlio e io sono sempre suo padre e quindi non me la sono sentita di andare avanti. Ora, questo 72enne ferroviere in pensione con un passato come ufficiale dell'esercito, ieri mattina lo ha detto al GIP Sonia Piermartini durante l'udienza di convalida che si è tenuta in collegamento video con il carcere di Monte Acuto dove l'uomo è detenuto con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. E il legale dell'uomo che punta alla parizia psichiatrica dice sembra non aver capito cos'è successo. Poi Marina Verdenelli racconta nei dettagli in questo articolo un po' tutto quanto. Ora, serpenti in casa, arrivano i pompieri, sempre a Senigallia vigili del fuoco impegnati anche sulla complanare per un incidente in due sono finiti all'ospedale. Ecco il serpente, insomma, questa bisce che viene tenuta in mano dal vigile. Poi pattina sul lungomare invece sempre da Senigallia muore a 46 anni la vittima è Guglielmo Federico Castresana i soccorritori hanno provato inutilmente a rianimarlo il decesso per un malore oppure per una caduta. Sempre da Senigallia il Corriere, Loris, giuro ho mirato alla coscia che dolore vedere mio figlio morto Pasquini si difende davanti al GIP mi sono protetto dalle bastonate ed è chiesta adesso una perizia psichiatrica. È tutto per la nostra segna stampa ho diverse cose da raccontarvi da dirvi allora alle 18 la celebrazione della Passione in diretta dal Duomo di Fano non ci sarà la messa alle 7 e mezza di questa mattina poi alle 21 la via Crucis in diretta la piazza San Pietro a Roma e poi a seguire in seconda serata intorno alle 11 Passione e morte di Gesù una rappresentazione ad opera dell'associazione un'associazione di Iesi è tutto grazie per averci seguito buona giornata Grazie a tutti